Sia fatta la tua volontà. Una preghiera piena di ardente fiducia in Dio, che vuole per noi il bene, la vita, la salvezza. Una preghiera coraggiosa, anche combattiva, perché nel mondo ci sono tante, troppe realtà, che non sono secondo il piano di Dio. Qui, Padre, c'è la guerra, la prevaricazione, lo sfruttamento, ma sappiamo che Tu vuoi il nostro bene, perciò ti supplichiamo sia fatta la tua volontà. Signore, soverti i piani del mondo. Il cristiano non crede in un fatto inelutabile. Se preghiamo è perché crediamo che Dio può e vuole trasformare la realtà vincendo il mare con il bene.